Ci sono buone novità per Coldiretti e per i suoi mercati che tornano da una parte e aprono dall'altra. Sì, allora con questi PNRR i comuni stanno lavorando e contestualmente a volte ci chiedono di spostarci perché rifanno le piazze. In realtà a Camuscia hanno finito i lavori perché ci eravamo spostati già qualche mese fa e adesso ci hanno comunicato che possiamo rientrare nella nostra piazza storica, piazza Segardi, lungo la nazionale. Quindi dal 24 di giugno saremo di nuovo presenti a dove storicamente ormai da anni facciamo il nostro mercato. Nello stesso frattempo però il comune di Sansepolcro da Porta Tunisi deve fare, anche loro devono fare dei lavori e quindi ci stanno chiedendo di spostarci a un'altra porta della città, però anche lì credo che sarà una questione di qualche mese e poi magari rientriamo nella nostra nuova location. Fra l'altro Belperio questo è il periodo buono perché ci sono le verdure fresche, si va verso l'estate quindi i prodotti a chilometro zero sono al top e sono quelli che probabilmente anche i clienti cercano. Sì, adesso soprattutto nell'ortaggio abbiamo anche tutti gli altri prodotti che vanno dietro la stagionalità e il sapore sta completamente cambiando e sta iniziando veramente la stagione, quella degli ortaggi freschi di stagione del nostro territorio. Quindi abbiamo iniziato con le zucchine, qualche tempo fa abbiamo iniziato con altri prodotti e ora piano piano si comincerà con la frutta, albicocche, pesche locali e quant'altro.